Ecco, ho venuto a scuola, finito che c'è qui, e lì dopo così, vedo, finalmente dopo tre ore nasce, e adesso mi abbasserà. Ecco che arriva fortunatamente la mia cara, cara Giovanna con un caffettino, e così spero mi tiri su di morale. Sì, sì, è bella crema. Ah, molto bene, e lo solo dirò.